Musica Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni degli oli extravergini di oliva del 18 marzo. Andamento di mercato incerto, un'attività di mantenimento delle forniture corrispondente ai normali consumi di periodo, tanto da evitare eventuali speculazioni. Leggero aumento delle quotazioni sulle principali piazze di Puglia e Calabria. Come evidenziato nel grafico, per la Regione Puglia è Bari, la piazza con valori minimi 4,20, massimo 4,48. Mentre per la Regione Calabria è Catanzaro con valori minimi 4,00, massimo 4,10. Per quanto riguarda i mercati esteri, leggeri aumenti con normali attività di scambio. Grazie per la cortesa attenzione e un arrivederci alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.